Amore a prima vista No, lui Prima nel web ha detto Mi piacerebbe incontrare una donna con cui cresce Se vuoi ti cresco io Ho molta esperienza Se vuoi ti cresco io E poi anche a me piace molto viaggiare Quindi se ti serve una compagnia Di viaggio Mi piace moltissimo il tuo stile Ma il figuro, te lo sapevo Comunque sei molto bello Veramente io già ho perso la testa Te lo dico Se vuoi fare Sei tranquillo Marco? Aspettiamo un attimo, vado avanti con loro Tu ti tranquillizzi Quanta mia hai scusa? 26 Tina Oggi vai a vedere Guarda la nostra amica Lo sai bene di farlo Adesso vi voglio trovare Un uomo giovane Dalmeno di 25 anni più giovane Io sono qua per fare un'esperienza nuova Quindi Ecco i fatti Ma più nuova di questa